buongiorno bambino piccolon buongiorno moglie buongiorno amore grigio amore grigio amore grigio ma voi avete notato che il crinicolettico non sa che cazzo fare si aggira per la casa brandendo la sua arma suo cellulare e va a disturbare sempre la povera Gabriela Ferragni qua sua palonzata per terra qui abbiamo Edoardo e poi invece Valentina per la Milano Fashion Week qui è da Fendi arriva come una star strafotografata per la sua entrance l'abito non mi dice granché anche sulla culata un po' le tira anche se in foto è un muted colors quindi anche molto elegante come la sfilata però ho visto dei look migliori per Vale come questo di Diesel sempre Milano Fashion Week guardate che roba quasi che spacca Vale una gattona e invece torniamo su Chiara Ferragni qui per Etro con questa giacca di tweed lo stivalone sempre Etro e il reggisone in pelle bellissima qui sta davvero molto bene Grazie a tutti